l'hanno fatto va un casino 90 90 guarda il doverla tutti entrati c'è uno dentro c'è uno dentro qua fuori c'ho 5 capito morto? non ci credo fai entrare fai entrare uno è potenziato cazzo sopra ce n'è uno ragazzi che sto facendo? come di film? sei film che fa vedere un po' di roba e poi fa la sigla si ok ok Tattillo tu fai la sigla a livello musicale vai vai facciamo figlio del merda vai la musichetta vai vai prova è semplicemente un antipas si ma devi continuare la famiglia te lo dico te lo mi asciuggo te lo mi asciuggo te lo mi asciuggo te lo mi asciuggo te lo ste cose fatte a merda poi no poi te te coso va si stava fa ammazzarla si stava fa ammazzarla si stava fa ammazzarla ci sono delle cose nere ok eh quello è il supermercato ok supermercato nero andiamolo a coppia dai andiamolo a coppia andiamolo a coppia si è però non facciamo non voglio che passino dei messaggi razzisti in questo canale vi prego è solo nero se hai sentito dai l'hai detto tu cioè hai un'oggettività attento c'è uno qua fuori raga no mi serve un'arma a me cosa vuoi un famoso airblow tu mi vien la puttana qualsiasi posto dove sei dimmi 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 dove stanno ambo qua su qua come potevi dal fama segaro sei un po' toccante no figlia qua figlia qua fama ma che mi fa cazzo mi han preso occhio a sinistra a me colpi non mi arrivano però una terra terra un'altra chiudilo 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 mi devo curare si però mi servono colpi a me ok aspetta mi prendo questo mi devo curare coperti un attimo ragazzi vado a chiudere il mio ce n'è uno dentro l'altra coppa aspetta che mi sto con un secondo vai operativo l'altro fuori faccio un'altra coppa si 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 ma raga non ho un cazzo ma faccio la divisione di beni fermo un attimo vabbè io non ho neanche io un po' di colpi del caso se volete mi serve colpi per le rm ce l'ho io un po' grazie vai voglio uscire da corso che dobbiamo essere tre cazzo di bastardi sei i bastardi sei il cazzo capito come il tatillo quando tatillo cosa mi vedevi in mente te e ti ho dovuto nominare non aveva senso altra pozza grande qui eh la prende nabbo te ne sono due la storo io l'altra se vuoi no storo da te no o porto quelle piccole o porto quella grande no quelle piccole le sto portando io ah ok vengo dai quelle piccole posso facciare se non fai arrivo da te che robberò in penna mattillà però perché la palla no sto dicendo che ho detto ad altro come si vorrà licenziare da mattina farà un video un video con tutte tutte le cose che mi ha evitato tutte le festeglie tutte le festeglie che fa la merda io non ho cercano niente caro facciamo a casa prendiamo questa casa mi aggrediamo noi ti preoccupate di ignoranza guarda li prendiamo dai loro caratteri oh c'avete li prendiamo da dietro oh c'avete i materiali si si qualcosa si il quattrocento c'è qualcosa per il fight va bene per il fight va bene andiamo mi stai andando dove volete attaccare voi no raga ma no ma scusa ma io dicevo le altre costruzioni eh non è la trage quella di sotto non è la trage scusa ci sono le mele perché non le prese che cazzo stanno le mele le mele qua le mele ma tu c'è lì in fondo vabbè nel tempo delle mele le 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 mele capirai caro pretenzioso che palle a 92 che palle ecco lì da dove siamo arrivati noi da dove siamo arrivati ok che è un cecco non ti conviene nabbo andiamo via raga ma perché è stato all'a voi muovo visto andiamo 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 ah ma lui è il cecco lui è il cecco perché non li vuoi ingaggiare scusami perché scusami che dove andare non so raga sicuro io vuoi andare in safe fammi capire caro vuoi andare in safe non vuoi ingaggiare vabbè cioè vuoi vincere sta partita così come le pussi eh vieni qua la vai andiamo qua a saltiamo no io no non mi consenti e aspettiamo che arrivano eccoli là eccoli là eccoli là dietro dietro 119 e li hai sparato però ma sei un pazzo perché li sparate ma perché li hai sparato tu vuoi tu vuoi fattare fattare e andiamo e andiamo andiamo passa la destra passa la destra cazzo lasciamo la ragazza però dovete lasciar con me cazzo dai non mi lasciate sono dietro di te io sono dietro di te eh no ok granate ma possibile che questi trovano tutto cazzo sto curando 41 2 qua raga attacca attacca quello lascio quello là non ho più shield ci sta curando per forza arriva un altro team da dietro occhio raga io mi sto curando eh amore mi prendi il kebab arrivato il kebab arrivato qua sotto 1 raga chiudi anche questo chiudi raga io mi ho uccisi due eh no ti ho dato l'ultima kill alla fine si 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 ma è lato diretta la chiudi direttore dietro 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 non c'era ti ok dammi questo danni prendi questo danno raga io devo curarmi completamente ragazzi scudi qua eh scudi qua arrivo ma perché io mi sono curato ma ma servono scudini se li avete è qui caro te li ho lasciati guarda scudoni scudino te li ho lasciato tutto dove pushavano probabilmente cari ad 85 ok lo vedo lo vedo 844 push eh le lanciacazze è mia ma sta scappando tantissimo ragazzi è impauritissima la ragazza dove cazzo sta è scappato qua sotto 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 ancora è tosto tutto scudo non la fate scappare per l'amor di dio ok ma non può andare a nessuna parte aiuto eh guarda 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 dove c'è la cassa dove c'è la cassa dove c'è la cassa l'ho visto porca troia dove qua il coso qua davanti qua davanti appena costruito dove hai detto mattia 1 2 3 4 4 4 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 6 6 7 6 7 7 8 8 9 9 10 10 9 9 10 10 11 11 11 11 11 11 11 Numero Occhio, occhio, 213, ci stanno sparando Chiuditi qua, vieni qua Non ho pure né niente Grande partita, caro, comunque 3 contro 2, ma è una bella partita, veramente Io c'ho un falò E scudini non itibiamo Pronta, sciolta, sciolta, sciolta Dobbiamo andare in safe Prendi scudini e andiamo in safe, vieni Oh, mi devi da... Le munizioni del pompa non c'ho Te lo do io, te lo do io Eh, ma rabidissimo, caro Appena ti fermi, te lo passo C'è una luta, il tizio qui Trovate Chi sei, vieni qua Ok, andiamo sotto, andiamo sotto Sbagliato Va bene, fa niente Bait, va bene Oh, magari lo siamo Questa è la vostra volta Stiamo 3 contro 2 Ce la possiamo fare Hai i cazzetti? Ce n'ho 18 Vieni con me, eh Vieni, vieni, vieni Ci sei? Stato qua Ok, davanti a noi Davanti a noi Usa i cazzi Sono stato dentro Non c'è Sente, sanzione Dove stanno? Due contro uno, bello mio, eh Due contro uno, attenzione Non so dove sta, però Dove sta? Occhio alla trappola Non so se l'hai messa te o lui Chi l'ha messa la trappola? Enrico Enrico è morto Ma sono morto io, Enrico Napoli, senti Non mi sente più nessuno, non fa niente Il devasto, cari Cari, mettete un bel like a sto video Penso che è meritevole Belle partite Anche l'intro È un monso che di bello, cari Questa Questo è il modo con cui sto giocando Questo è il motivo per cui Non sto scendo di casa Da svariati giorni Fatti putto le garogne Ho fatto la muffa Bella Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.